A cosa serve Get Ready? Get Ready è una soluzione che serve ad accompagnare il paziente prima dell'intervento, durante l'intervento e dopo l'intervento, quindi a preparare il paziente alla procedura a cui deve essere sottoposto, dandogli tutta una serie di informazioni sulla procedura che deve seguire e sul tipo di problema clinico che ha. Dopo la procedura e quindi dopo la dimissione Get Ready serve al paziente perché mantenga un link costante col team clinico che lo ha seguito. In che modo? Sia perché ha la possibilità appunto di comunicare col team clinico, ma soprattutto perché può inviare, grazie alla soluzione, una serie di informazioni importanti che servono al team clinico a valutare il suo stato di salute. Di cosa stiamo parlando quindi? Parliamo di una soluzione digitale, parliamo per il paziente di un'app attraverso la quale può fruire di tutta una serie di contenuti informativi ed educativi e anche di una serie di questionari che sono somministrati lungo tutto il suo percorso di cura secondo la frequenza decisa dal medico perché possa inviare al medico informazioni sul suo stato di salute. A cosa serve invece al medico? Get Ready per il medico è uno strumento importante proprio per preparare in modo adeguato il paziente all'intervento, quindi farlo arrivare all'intervento nelle migliori condizioni psicologiche anche di salute e a seguirlo poi in fase di dimissione per poter intervenire se subentrano situazioni che vanno attenzionate o situazioni di criticità che magari rischierebbero o potrebbero essere rischiose per il paziente.